Siamo una delle nostre più importanti fabbriche di motori d'aeroplano per vedere come attraverso meticolose cure di maestranze specializzate e azioni di macchinari d'alta precisione si forgiano quei potenti, meravigliosi motori che hanno assicurato all'ala italiana primati mondiali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.